Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, oggi ho un nuovo video, un video tag che si chiama Tag Nails Lover, quindi un tag di quante domande? 10 domande credo, 16 domande che riguardano le unghie, l'ho visto sul canale di Zina Love Nails 4, ciao tesoro, un bacio grande, non so chi le ha ideato, l'ho visto sul canale e mi è piaciuto dato che riguarda le unghie e quindi l'ho voluto fare anche io. Allora partiamo subito, prima domanda, ti sei mai mangiata le unghie? Sì, quando ero adolescente io mi sono sempre comunque parte mangiata le unghie, ero proprio unicofagica a morte proprio perché avevo proprio le unghie corte corte che quasi invece vedevano sotto la carne e poi mano a mano con la passione delle unghie eccetera eccetera sono fatte crescere insomma e da lì non l'ho mangiata più soltanto che ho ancora il vizio di mangiarmi la pelle questa qua intorno, la pellicina intorno, insomma vabbè paro cannibale però in certe volte paro veramente cannibale ma ok. Seconda domanda, solitamente le unghie lunghe o corte, allora una via di mezzo adesso ce l'ho questa lunghezza qua praticamente, queste sono le mie unghie naturali, queste e ho fatto la copertura adesso in gel che poi l'avete visto nel refill, però adesso le ho così se no io le voglio proprio lunghe lunghe perché mi piacciono veramente tanto, dopo ecco dipende, se mi spezza ovviamente c'ho corte, ecco a mano a mano che cresce c'è le unghie però la maggior parte adesso ecco c'ho questa lunghezza qua una cosa media, né tanto lunghe né tanto corte, la via di mezzo. Terza domanda, che colore hai in questo momento se le unghie delle mani? Allora ho questo colore qui nuovo che è un gel color, questa è una copertura quindi in gel che è nuovo che l'ho preso che avete visto anche uno spaccatamento delle passioni unghie che si chiama Asia, non ricordo il codice, poi sotto ho, come non metto a fuoco, ecco questo qui è color Asia, qua sotto c'ho oro rosa flash con il water decal, quello stesso color Asia, sotto pure qua ho messo color Asia e poi ho messo questa polverina qua. Poi, quarta domanda, abbili il colore dello smalto su ma e nei piedi? No, sinceramente non mi interessa, io per esempio di inverno nei piedi non me lo metto mai lo smalto, mai mai sto proprio senza smalto d'inverno anche perché chi ti rivede i piedi no? Non è che esci con i sandali. Invece d'estate mi piace comunque anche prendermi cura dei miei piedi però ecco, uso gel semi permanente e robe così, uso questi qua in smalti normali però non va ad abbinamento con le unghie, non mi interessa proprio invece tante persone quando si fanno le mani vogliono avere lo stesso colore dei piedi, però a me sinceramente invece non me ne frega, cioè io qua posso fare verde fosforescente e in dei piedi posso avere, posso mettere giallo fosforescente per dirvi, quindi non mi interessa proprio abbinare il colore dello smalto delle mani e i piedi, sinceramente non mi interessa. Quinta domanda, dopo lo smalto colorato o una nell'arte applichi sempre il top coat ovvio? Allora, qui perché se parla pare pare sia come smalti semi permanente o gel che smalti questi qua normali che vanno via con l'acetone insomma. Quindi io vi parlo in tutte e due le cose sia per quanto riguarda i smalti sia per quanto riguarda i gel color insomma i gel in generale o semi permanente quelli che sia, almeno sapete come la penso sia sui smalti normali sia per quanto riguarda i gel color semi permanente eccetera eccetera. Allora, io dopo lo smalto normale, ovviamente sì, io prima di applicare poi lo smalto normale applico una base insomma per l'unghia, prima di mettere il colore insomma sia per non fare, ecco sporcare ulteriormente di più lunga tua naturale che con i smalti si sa che dopo un po' te poi ne macchia anche le unghie. Poi metto il colore e alla fine sì metto il top coat trasparente insomma, non top coat, non smalto trasparente ecco per sopra lunghe però sì top coat e invece ovviamente sì e anche se faccio ovviamente un anel art, ovviamente sì devo fare una ricostruzione o copertura su di me ovviamente e alla fine uso il sigillante lucido. Poi, sesta domanda che differenza c'è secondo te tra una base coat e uno smalto trasparente? Allora secondo me, non so se mi sbaglio ma secondo me allora lo smalto trasparente è lo smalto trasparente quello normale che va via con l'acetone che lo do per questi qui con i smalti normali e invece la base coat, quindi un top coat base, la base coat vabbè perché dipende, c'è sta per esempio il pessimo impermanente, c'è sta la base coat che è la base che mette prima lo strato e poi mette il colore alla fine il suo lucido, il sigillante, però ci sono tante basi che sono insieme al lucido quindi lo mettete sia all'inizio prima di mettere il colore sia alla fine che fa sia da base che da lucido poi insomma dipende. Quindi la differenza è questa che è comunque base coat è comunque che va in lampada quindi se è un semi permanente invece lo smalto trasparente lo dice proprio la parola e i smalti normali che vanno via con l'acetone ecco questa qui è la differenza in teoria. Settima domanda se dovessi portare con te in un viaggio di un mese solo due smalti quali sceglieresti? Allora io se dovrei andare a fare un viaggio non mi metterei mai smalti che potessi sbeccane e devi iniziare i mette quindi non c'è proprio voglia di smalti ripeto questi normali invece se mi devo fare un semi permanente io faccio così mi faccio subito una copertura un semi permanente almeno per un mese sto a posto non c'ho bisogno di stambi rimetti l'altra volta lo smalto eccetera eccetera cioè non c'ho voglia almeno per un mese sto a posto mi faccio le mie unghiette con la copertura in gel semi permanente per l'estate ho deciso anche che nell'arte fare estiva e sono a posto senza che sto lì stambi smalti vado in vacanza sopra e mettermi un smalto no ci sarà il tempo però no ma a me non che lunghe sto a posto non ci devo stare più dietro insomma allora ottava domanda quanti smalti hai? 300 che avevo contato io 280 300 più o meno sono in tutto adesso vabbè c'è anche la parte sopra che non vedete però 2-3 l'ho buttato che comunque ormai si erano rovinati si erano seccati però più o meno c'ho quel numerino lì dei smalti normali che vanno via con l'acetone invece gel color smaltissimi per me non c'ho quelli passioni anche ma erano quelli vecchi che c'è una tabucetta qua che poi non uso mai che adesso ormai sono usciti quelli nuovi che belli però di gel color l'ho contato i ragazzi proprio oggi c'è c'è no 160 dei colori c'è tanto ho visto che c'è 200 300 ma io c'ho 160 però adesso le mie clienti gli devono bastare quelli che ho poi ottava domanda non è vero l'ho detta che quanti smalti hai non ho una domanda quale prodotto per la nail cure routine ritieni indispensabile allora io la nail art routine cure quella che curano le mani l'ho fatta una volta sola che avevo messo a mollo le mani per dieci minuti con limone e olio d'oliva mi pare per fatele sbiancare però e se noi non le faccio mai io ecco se devo farmi un refio oppure devo iniziare a fare una copertura ricostruzione semi permanente o quello che sia ovviamente fai disinfetti prima con liquido poi comunque usi le punte per fare bene il giro cuticoli tipo delle mani chiudere russa no come che si chiama con le varie punte le lime della bella forma e poi inizi con i prodotti anche il preparatore nel prep primer quindi troppo qua invece per quanto riguarda i smalti normali io metto per esempio delle unghie tue naturali insomma qui smalti prima di mettere lo smalto io facevo che me levavo le cuticole con il fregnetto quella apposta per levare le cuticole tagliare la cuticole come si chiama e la tronchesina ecco e le spingevo indietro così col spingi il cutico con la tronchesina poi mi levavo le unghie me le bafferizzavo anche davo la forma e poi alla fine speravo bene tutte mettevo una crema che ce l'ho è una crema sia per le mani che per le unghie aspettavo che si asciugava bene che penetrava bene nell'unghia poi alla fine utilizzavo cominciò ad utilizzare i smalti per me è questo più di questo tanto che i dei fa parte a metterla a mollo il metteva a mollo per fatto per farme le sbiancate dato che fumo quindi gli indici questi qui non ce l'ho proprio gialli gialli ma un pochino almeno io la faccio così ecco i prodotti che ritieni però dice non come fare una skin routine nell'art cur routine però ai prodotti ecco da utilizzare sono questi qui spingi i cuticole la lima una cremina però beh qua secondo me ultima domanda che la decima dice qual è la tecnica di nell'arte micropittura sponge marble eccetera che preferisci tra queste la micropittura mi piace veramente veramente tanto poi mi piace anche fare tipo ecco nell'arte del cartone dei cartoni animati visi tipo ecco a sireneta se robette qua mi piacciono tanto però la maggior parte mi piacciono tutte le nell'arte poi dipendo come sono fatte c'è quelle che un po mi annoia un po mi stufa con il tizio del me non me le faccio infatti quando mi do fa le unghie mi do fa nelle l'arte che mi piace che so che non mi stufa che dopo tre giorni e lei comincia leva tutto invece no queste adesso le ho fatte a fine agosto e quindi le devo tenere fino a settembre se mi dura dipende quarta ricrescita ciò poi vedrò però alla fine come tecniche dell'arte mi piacciono tutto per tipo la micropittura di fadighi rigori oppure effetto pizzo un fiorellini anche un stroke ora tecnica un nuovo stroke quel colare crisis troppo qua mi piace veramente tanto e le mie le tra le mie preferite insomma però comunque in generale dell'arte mi piacciono tutti io niente ragazzi questo video tag della nils lover tag nils lover finisce qua io sotto l'info box come sempre vi metterò tutte queste dieci domande e chi vuole fare video può fare tutti tranquillamente quindi tag a tutti come sempre ovviamente prendete le domande da sotto l'info box fate prima senza che ogni volta stoppate il video cosa ha detto greta la prima domanda stop scrivo è come ho fatto io con questa ragazza perché non aveva le domande sotto e quindi lo faccio apposta metto perché metto le domande sotto all'info box perché una vede un video scritto video tag nils lover ok di greta nils e di youtube ok vado a vedere il suo canale mi piace il video fammi vedere sotto l'info box ci sono sotto le informazioni se ci sono le domande ok ci sono allora le guardo le ricopio le scrivo fate prima secondo me quindi è una cosa che io faccio un aiuto verso di voi non è un aiutone grandissimo però comunque una cosa che mi piace fare io mi scrivo tutte le domande sotto all'info box a meno appena aprite il video avete le domande e ve le ricopiate senza che ogni volta dovete stoppare il video cosa ha detto la prima domanda poi vedete in treccia e svegliate con la seconda terza domanda in casino e quindi la cosa che voi fa proprio per voi per facilitare un po più le cose ecco insomma almeno le avete scritte lì state a posto e le ricopiate il tuo foglietto il tuo quadernino poi vedrete voi io niente spero che questo video tag lo farete perché è molto carino meno per chi fa le unghie o perché se ne intende delle unghie non so come mi pare anche chi non le fa non lo so comunque e niente spero che vi sia piaciuto questo tag se è stato così mettete pollice in su scrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se volete commentate mi fatemi sapere se anche voi fate più o meno come me insomma oppure no insomma mi sono curiosa quindi scrivetemi sotto questo video nei commenti che vi rispondo appena posso seguitemi su instagram su facebook e nel mio gruppo di unghie che unghie che passione che potete mettere i vostri lavori tutti i lavori che fate siete nell'art che foto c'è c'è che foto nell'art insomma le foto nell'arte che fate le clienti voi stesse donati come vuoi fare niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao